Uno dei propositi del piano strategico della città metropolitana di Firenze è la connessione verso l'esterno, ben oltre i meri confini amministrativi. Le dinamiche funzionali e socio-economiche del territorio fanno in modo che Firenze guardi verso le realtà limitrofe, anche quelle non direttamente confinanti. Pensiamo ai legami sull'asse con Prato e Pistoia, al sistema aeroportuale che coinvolge anche Pisa, alla vicinanza con Bologna, ma anche ai legami con la costa, quindi con Pisa e Livorno. C'è una linea ferroviaria che collega Firenze a Pisa e Livorno, la cosiddetta Leopolda passante per Empoli, ma soprattutto c'è una strada di grande comunicazione. L'anno che si sta concludendo è stato molto particolare per la Firenze-Pisa-Livorno, meglio nota con le sigle FIPILI, di proprietà della regione toscana, ma gestita dalla città metropolitana di Firenze. Arteria, tra le più importanti del sistema stradale toscano, fu progettata negli anni 60 del secolo scorso, finita di costruire nel 1990 nel tratto Firenze-Pisa, a metà degli anni 90 nel tratto fino a Livorno e nel 2004 in corrispondenza del porto labronico. Una strada quindi pensata per flussi di traffico differenti da quelli attuali e che soprattutto quest'anno ha mostrato tutti i propri limiti, specialmente nel tratto fiorentino. La strada, quando fu progettata, non si pensava che sopportasse nel futuro un traffio così importante. Sono fatti degli studi sui flussi e questi hanno rilevato che nei tratti che hanno maggior densità abitativa, legati anche a poli industriali importanti, a arterie di collegamento importante, si registrano anche 80.000 mezzi al giorno. Teniamo conto che di questi 80.000 mezzi una grossa parte si tratta di traffico pesante, traffico pesante che proviene dalla costa, in particolare dal porto di Livorno e si ricollega attraverso la Fipilì con la 1. Quindi questo traffico comporta una grossa usura su tutto il tratto della Fipilì. Il 2021 è stato segnato indelebilmente dalla frana dovuta alle ingenti piogge d'inizio gennaio tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze, all'altezza della frazione lastrigiana di Inno. Uno smottamento che provocò molti problemi sia sulla viabilità della stessa Fipilì, con lo scambio di carreggiata che per mesi ha fatto compagnia agli utenti della strada, sia su quella ordinaria, con la chiusura sempre attuale della sottostante via di Carcheri. I lavori andarono avanti per mesi tra molte difficoltà anche di natura burocratica ed il tratto fu riaperto interamente nel mese di ottobre. Per questi lavori in emergenza la regione mise a disposizione circa 5 milioni di euro, mentre la metro città aveva anticipato parte delle risorse. È partita un intervento iniziale di messa in sicurezza e a seguito un percorso che ha portato a una progettazione anche questa molto lunga e complessa, anche questa perché ha previsto la realizzazione di palificate a sostegno della carreggiata. Questo ha comportato un intervento piuttosto lungo nel periodo estivo, però l'iter e i tempi che ci eravamo dati, cioè riaprire la strada, la corsia della FEPILI prima dell'inizio della scuola è andato a buon fine, cioè nel senso abbiamo riaperto i primi di ottobre. I lavori, a dire il vero, non sono del tutto terminati. L'intervento seguirà in questi mesi per quanto riguarda il consolidamento di tutto il fronte frana sia sopra le due carreggiate della FEPILI che di sotto, che comprende anche tutta quella che è la reggimentazione delle acque che ha provocato la frana e questo porterà di conseguenza alla riapertura della via di Carcheri, via che interessa il mio comune e poi si ricollega via delle fonti nel comune di Scandicci. Tra città metropolitana di Firenze e Regione Toscana è aperta la partita per la manutenzione della FEPILI. Il governatore Eugenio Gianni ha più volte sostenuto la necessità di creare una società ad hoc, Toscana a strade, ma dal 1 gennaio 2022, come asserito dalla sindaca di La Strassigna e consigliera metropolitana Angela Bagni, sarà al via il nuovo global service portato avanti da AVR. Partendo proprio dalla frana nel territorio lastrigiano, il sindaco metropolitano Dario Nardella ha parlato della necessità di un piano strutturale di riqualificazione dell'intera infrastruttura. Dobbiamo evitare che si creino difficoltà analoghe nei prossimi anni. Per farciò è necessario mettere in campo un piano strutturale di riqualificazione di tutta l'arteria, di tutta l'infrastruttura Firenze-Pisa-Livorno. Per questo stiamo lavorando con la Regione per realizzare questo tipo di progetto, visto che la Regione è proprietaria della Firenze-Pisa-Livorno e la città metropolitana ha il compito della gestione. Quindi ci auguriamo che in poco tempo si possa aprire questo tavolo con le province di Pisa-Livorno, con i comuni interessati da questa arteria e con la Regione, proprio per aprire un nuovo capitolo della FIPI-Li in grande armonia e con un lavoro di squadra che è ovviamente indispensabile. Ad oggi la situazione è sotto controllo, l'importante è lavorare per prevenire i problemi e non doverli poi affrontare una volta che si manifestano. Sicuramente il 2022, nei primi mesi, andremo a riaprire Via di Carcheri, dopodiché per quanto riguarda opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come tutti sappiamo dal 1 gennaio del 2022 partirà il nuovo Global Service, sempre portato avanti da AVR. La cifra che è messa a disposizione di tutto il tratto della FIPI-Li sono 8 milioni di euro per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e inoltre sono previsti anche delle risorse per la manutenzione straordinaria, risorse che dal 1 gennaio, quando partirà la gestione del nuovo Global, avremo modo di pianificare insieme alla parte tecnica della città metropolitana e l'azienda AVR a seconda delle necessità delle varie zone e il piano che ci sottoporrà AVR tenendo conto delle priorità. Per quanto riguarda il miglioramento della viabilità tra la Strassigna e Scandicci, ci sono due soluzioni sui tavoli degli enti e non solo, che terranno banco nei prossimi anni. Una è la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Scandicci in capo alla società autostrade. L'altra è la nascita del nuovo ponte sull'Arno tra l'Astra e Signa, la cui progettazione è della regione toscana. Sicuramente la realizzazione del nuovo svincolo comporterà un miglioramento per quanto riguarda la situazione quotidiana di code che interferiscono su questo tratto. Sicuramente sull'altra parte la soluzione è quella della realizzazione del nuovo ponte, perché dall'uscita della FIPILI di Lastra si ricollegheranno delle infrastrutture che alleggeranno il traffico in uscita a Lastra e quindi andrà a migliorare anche le code che da Firenze ogni giorno interferiscano sul tratto fino alla Strassigna.